Vi ringrazio molto di questo invito, innanzitutto cercherò di toccare come tema proprio quello del gioco, magari con qualche esempio in meno del professore Nanichini che mi ha preceduto e che ringrazio per l'interessantissima presentazione. Quindi cercherò di entrare un po' nel merito di perché ho voluto chiamare la mia comunicazione. Ah, vedo 2302 2032, cambiamo, 2302 2023. Ecco, questo diciamo è quello che fa la matematica, cioè si cambiano i numeri come ci piacciono e nel vedere 2302 2023 un matematico esploratore vede che sono ripetute le stesse cifre, quindi mi piace, quasi vede il palindroma ma non c'è purtroppo perché, come avete visto, girato, ruotato, veniva fuori 2302 2032. Ecco, al di là di questa piccola animazione, per me giocare in matematica è sempre stato necessario, anche se negli ultimi anni mi sono dedicato particolarmente al gioco, sia da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico, cioè essendo coautore di diversi giochi in ambito matematico, credo che sia necessario recuperare il valore della matematica come gioco da tutti i punti di vista. E poi uso la parola virtù che ho preso in prestito, vabbè, diciamo che è una parola che nella filosofia è molto antica, però l'ho preso in prestito da un libro che recentemente siamo appunto, come associazione stiamo collaborando a tradurre in lingua italiana, che è il libro che cito spesso, Mathematics for Human Flourishing, il titolo pseudo definitivo nella lingua italiana sarà Matematica per il teore dell'essere umano, di cui l'autore è questo matematico contemporaneo, anche presidente dell'associazione matematica americana, professore che dopo aver fatto una bellissima lezione, una di quelle lezio magistralis che vanno tanto negli Stati Uniti, si ritrova a scrivere un libro con la collaborazione di, c'è scritto lì in piccolo nella copertina di tale Christopher Jackson, che è un ragazzo che dal carcere scrive a francese, mi senti? Ok, no? Ok. Ok, ripristinato, perfetto. Benissimo. Ok, vi sento meno solo. Ok. Allora, dicevo che scrive questo libro su, insieme a Christopher Jackson, che è un carcerato, che dal carcere scrive al professore per chiedergli una mano per fare delle lezioni a distanza di matematica, avendo scoperto nello studio della matematica, ma dalla matematica superiore, quindi dell'analisi, dell'algebra e tanti aspetti che studiava, scopre in questo una possibilità di liberarsi dalla sua condizione di prigioniero, di fatto con tanti anni di carcere da scontare. Francis Su non solo prende sul serio questa lettera, ma poi, diciamo, vuole nel libro citare alcuni degli scambi epistolari con Christopher Jackson. Nel libro, come vedete, nella prima pagina compare With Reflections by Christopher Jackson. Cosa c'entra tutto questo con il gioco nella dinamica matematica? C'entra innanzitutto per la parola virtù che ho usato nel titolo del libro, e c'entra perché, se notate nelle parole in maiuscolo sotto, una di queste parole, la terza in particolar modo, è la parola gioco. Perché fare matematica? Nella sua introduzione dice Francis Su, quello di cui spera di convincerci è che fare matematica coltiva virtù che aiutano le persone a flourishing, a fiorire. Queste virtù ti servono indipendentemente dalla professione che svolgerai, e il cammino verso le virtù avviene attraverso i desideri umani fondamentali. Quali sono questi desideri umani fondamentali? Sono i titoli dei capitoli di questo libro, che trovate in maiuscolo sotto. Il quarto capitolo del libro, in realtà qua è il terzo, ma il primo è il flourishing, quindi è, diciamo, il capitolo introduttivo. Il quarto capitolo è dedicato al gioco, ma negli altri troviamo parole come esplorazione, senso, permanenza, verità, lotta, energia, giustizia, libertà, comunità, e l'ultima è il più grande dei desideri umani, è l'amore. Non è un libro filosofico, è un libro dove ci sono, dove sono contenute diversi esempi di attività e possibilità di fare l'esperienza della matematica cercando di perseguire le virtù di cui parlerò dopo e di, diciamo, raggiungere, compiere questi desideri umani. Io mi soffermerò in particolar modo sul gioco, ma in realtà il primo che prendo in considerazione, collegandomi poi con tutto quello che è un discorso più profondo relativamente al gioco, è il desiderio umano dell'esplorazione. L'esplorazione, vedete qua questa immagine cestistica, l'esplorazione, dice Su, non è una parola che di solito si associa alla matematica, o meglio, credo che gli organizzatori di questo convegno la associano costantemente, così come il professore che prima ci ha, il professore che prima mi ha preceduto. L'esplorazione non è una parola che si associa se si è convinti che ci sia solo l'aritmetica a qualcosa di più avanzato e quindi ci si depremerà a pensare che tutto è stato già scoperto, ordinato tantissimo tempo fa. E la matematica, spesso che si fa a scuola, dice Su, sempre sono parole sue, la traduzione, prepara solo per esplorazioni future, cioè ti do gli strumenti per qualcosa che potrai esplorare più avanti, magari se andrà a fare l'università a matematica, ingegneria o una facoltà scientifica. E quindi, cioè, immaginate, lui dice, ma quanto sarebbe bella, diversa l'esperienza se potessimo esplorare la matematica già ora, mentre ne impariamo, non imparando solo, come fa l'esempio del basket, non facendo solo tiri liberi, senza assistere mai o giocare mai, una partita vera, fino a che non saremo pronti, non avremo tutti i rudimenti. No, imparare non sarebbe certamente divertente al momento di entrare in campo, non saremmo pronti, se il basket fosse solo tiri liberi, no? Questa è l'immagine che lui dà. Chiaramente il basket potete associare all'America, che ne so, al calcio o altri sport o una qualunque altra attività, che richiede fatica, che richiede impegno, ma non è un impegno fine a se stesso, non è un impegno solo per il risultato, è un impegno che deve avere già dentro di sé tutto quel fascino della scoperta, dell'effetto, qualcuno dei nostri insegnanti lo chiama l'effetto wow, pensando alla faccia o anche proprio all'espressione onomatopeica dei suoi studenti, quando risolvono e trovano una soluzione, trovano una strategia a cui non ha pensato nessun altro, la loro strada. Per parlare di gioco, ho sintetizzato in un'unica slide quelli che sono un po' i miei capisaldi per approcciarmi al gioco, cioè l'approccio dell'antropologia che collega il gioco alla cultura, quindi con questi due grandi maestri che sono Yohann Uyzinga, da molti conosciuto anche per altre opere, nel mio caso cito Homo Ludens del 38, e ho messo cinque frasi, sì, cinque punti che si possono riconoscere nel gioco e che sono poi le caratteristiche che nel gioco andiamo a riscoprire nell'ambito della didattica matematica. Il gioco deve essere innanzitutto un atto libero. Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché poi quando si gioca a scuola forzatamente diventa un problema. Allora è chiaro che il gioco proposto da un docente vogliamo dire è libero, non è libero, cioè è chiaro che è la proposta che noi facciamo a loro, però è importante che sia compreso come qualcosa, anche l'altro giorno mi capitava rispetto ad alcuni studenti di vedere come qualcuno fosse più predisposto almeno all'inizio per giocare a un certo tipo di gioco piuttosto che a un altro. Allora, prima di proporre quel gioco che volevo per tutta la classe, magari con alcuni può essere una chiave cercare il suo gioco per poi fargli vedere che si può giocare anche al nostro gioco, no? Quindi, che ne so, adesso faccio l'esempio nell'ambito aritmetico o nell'ambito geometrico. Il gioco non è vita vera, è coscienza di essere un mondo a parte e in questo è bellissimo, no? Cioè che ci ritroviamo in quell'ambito senza tempo, senza spazio, dove poi possiamo anche essere qualcos'altro, qualcun altro anche in termini di autostima dei nostri studenti. il gioco è una cosa seria ma resta una categoria eccezionale, autonoma, impossibile a collocare o solo nel serio o solo nel divertente. Il gioco ha una struttura, pensate al mondo delle regole quanto poi la struttura la ricolleghiamo all'ambito matematico e il gioco è dotato di significato. Vabbè, lo scopo del gioco non sto certo a dirlo qui io. Non cito, ma ho voluto comunque menzionare Roger Calouin che nei giochi dell'uomini descrive le quattro categorie del gioco e che si muovono attorno a due poli opposti la Tidea e Ludus che sono il gioco senza regole, il gioco iniziale, primitivo, del bambino che è la corsa, il gioco che non ha bisogno di qualcuno che mi indichi quali sono le regole da seguire e Ludus è il gioco con le regole, il gioco degli scacchi o comunque altro tipo di gioco che abbia un gioco solamente da seguire. non cito le quattro forme anche se le ho messe così magari a qualcuno poi verrà in mente di andarla a scoprire, voglio in questo contributo siccome in altri contesti ho fatto di altri di altri matematici e di altri studiosi in questo contesto ho voluto citare un po' più approfonditamente Michel De Guzman matematico spagnolo che si è occupato ovviamente di didattica e in particolar modo riprende un suo intervento uno dei tanti proprio su un convegno dell'84 in cui il tema era proprio il gioco la matematica e giochi matematici. Chiedo ai colleghi di chiudere i microfoni perché sento ogni tanto qualcuno che vedo proprio a entrare in intervento ok qui è una frase che ho lasciato solamente in spagnolo le altre le ho tradotte però diciamo che la matematica lui dice non c'è da parlare di gioco nella matematica ma la matematica già è tua natura è gioco no? questo era il convegno che vi dicevo dell'84 a Telerite tre stralci che ho ripreso non so se si può togliere l'audio di questa collega non si sa chi è ok allora i tre stralci che ho preso sono uno quello più noto a mio parere d'altra parte quello stesso elemento di passatempo divertimento che il gioco ha essenzialmente dovrebbe essere proprio il motivo per usarlo generosamente cioè molto spesso è il motivo che dice no vabbè ma poi ci si diverte il passatempo è troppo ricreativo no? c'è pensate anche a questo ramo della matematica che ho investigato molto della matematica ricreativa perché non alleviare la serietà mortale di molte dei nostri classi con un sorriso non mi sembra un danno ma anzi mi sembra un pregio e poi fa l'esempio classico no? è un fatto molto frequente che molte che delle persone che si dichiarano incapaci per la matematica da tutta la vita si divertano poi intensamente con puzzle e giochi la cui struttura differisce pochissimo dalla matematica anzi si potrebbe andare a trovare tantissima matematica sotto traccia di quelle proposte da settimane enigmistiche giù di lì ci sono chiari blocchi psicologici in loro che offuscono la loro mente non appena si rendono conto che una domanda viene loro proposta molto più semplice forse del gioco che praticano e ha a che fare con il terreno di Pitagora ho letto con un'intonazione sbagliata ma il concetto è che se in quella domanda c'è adesso l'esempio che lui fa il terreno di Pitagora c'è già un muro che si crea invece la possibilità di trovare qualcosa dove sembra che la matematica non sia presente ma in realtà sotto traccia è qualcosa che ci mette un po' più confidenti nel provare nello sperimentare nel vivere l'attività di esplorazione di cui riprenderò tra poco e quindi poi lui trancian dice vabbè ma qua il punto è che non dobbiamo dare informazioni che poi pensiamo che siano utili come cittadini della nostra società il punto è aiutarli a sviluppare la propria mente le proprie potenzialità intellettuali effettive fisiche armoniose e in questo il gioco secondo De Guzman è un grande strumento ma come avviene questo strumento lui fa questa analogia vedete adesso ho ripreso la frase di prima e vedete lui prende la matematica e il gioco nella matematica noi per dimostrare i teoremi abbiamo gli elementi primitivi gli assiomi le prime definizioni elementi e poi assimiliamo ci impadroniamo di grandi teoremi dei metodi che sono stati creati nel corso della storia nel gioco allo stesso modo per ipotizzare le strategie vincenti del gioco devo conoscere i pezzi che possono essere normalmente gli elementi primitivi la relazione che c'è tra i pezzi le relazioni lo scopo del gioco e poi appunto potrò approfondire le strategie diversi approcci grazie anche a coloro che prima di me sono stati dei maestri in questo gioco e nell'elemento di gioco dalla matematica lui individua i giocatori esperti come quelli che sono i matematici ricercatori quelli che cercano sempre nuove strategie a partire dalle loro conoscenze da quello che hanno trovato prima i giochi più complessi diventano i problemi aperti della teoria e gli inventori di giochi sono quelli che sono i cosiddetti innovatori in ambito matematico qua è importante questo passaggio perché qualcuno di voi ma penso che molti conoscerete le quattro fasi di risoluzione di un problema che propone George Polia nel matematico ungheresi del secolo scorso tra le tante cose appunto in auto solve it tradotto poi in italiano in come risolvere problemi la cosa interessante è che lui cerca di accompagnare il risolutore di problemi attraverso delle domande che si sviluppano in quattro fasi queste quattro fasi sono state ricalcate da De Guzman attraverso le fasi di esplorazione di un gioco cioè quindi vedete sopra le linee oristiche basate sui giochi e quindi dice cerca tu si riferisce all'insegnante di rendere chiara la somiglianza degli atteggiamenti che si verificano nella risoluzione di un puzzle puzzle sapete che in inglese è diciamo il sinonimo di rompicapo per noi non è solo il puzzle quello che ci immaginiamo con i bambini o di un gioco e in quella di un vero e proprio problema matematico e come in effetti molte delle abitudini adatte al compito matematico non potrebbero acquisirle altrettanto bene abitudini forse attitudini altrettanto bene divertendosi con esempi selezionati di giochi e poi lui fa una carrellata di esempi di giochi che qui non sto a riproporvi ma la cosa che vi ripropongono sono i quattro i quattro passaggi cioè prima di farlo cercherò di capire cioè questo è d'aiuto questo in genere si costruisce direttamente con i nostri studenti sono queste le quattro fasi il titolo può essere più o meno sempre lo stesso ma le domande che guidano la fase di esplorativa di ciascuna delle fasi possono essere costruite con i nostri studenti prima di risolvere cerca di capire cioè non pensare che sia un'osservazione sciocca l'esperienza dice che ci sono molti che si buttano a fare cose folli nel caso in cui uno poi magari trova la soluzione per caso pensiamo al fatto che poi c'è il libro di testo che ci dice la soluzione in questo quando noi proponiamo un problema e lo proponiamo noi in classe dove loro non sanno quale sia la soluzione sicuramente questa fase è più controllata elaborerò una strategia cerca collegamenti ad altri elementi che conosci forse hai bisogno di costruire un gioco secondario più semplice cioè semplifica la domanda che magari sai risolvere il famoso la somma dei numeri da 1 a 100 non fare quella da 1 a 100 fare quella da 1 a 10 poi capisci qual è la regolarità alla fine di questa fase dovresti costruire poi un piano concreto d'attacco a questo punto vedo se la mia strategia mi porterà alla fine mettendo in pratica il mio piano i miei piani di attacco in genere si finisce qui ma poi c'è il sacare hugo al hueco cioè spremere come il succo dell'arancia del frutto spremere tutto quello che devo ottenere da questo gioco otterrò il massimo dal gioco la traduzione ma ho lasciato anche l'espressione spagnola perché secondo me rende ancora meglio cioè non considerare che è completamente finito quando l'hai capito guarda la fonda approfitta della tua soluzione per assimilare bene quell'esperienza per farlo tuo e per magari vivere quell'esperienza che poi ridirò attraverso le parole di su del di fatto del fatto che il gioco è una sorta di ciclo cioè si si ripetono una serie di attività a virgolette all'infinito qua un esempio che propone nell'inizio del libro è un gioco che è molto simile al tic-tac-toe al tris dove però immaginate di avere le pedine che si muovono lungo questa queste linee queste questi segmenti abbiamo quattro pedine a testa quattro bianche quattro grigie in questo caso le dobbiamo collocare dentro la dentro il tabellone muovendoci solo sulle linee quindi solo negli incroci tra le linee e quando abbiamo finito di metterle di collocarle possiamo incominciare a spostarci solo lungo le lungo segmenti quindi se vedete sono tutte bloccate le pedine tranne quella in alto a destra cioè questa centrale la la bianca in alto e la grigia a sinistra se muove il grigio può andare qua se muove il bianco può andare qua vedete credo in modo abbastanza evidente quello che può succedere nel senso che dopo lo scopo del gioco che non ho detto lo scopo del gioco è fare il tris per esempio se il grigio dovesse muovere questo verso l'alto che è l'unica possibilità che ha il bianco avrebbe libera la posizione centrale sinistra e farebbe il tris con le altre due che si ritrova intanto ok è un gioco molto semplice è un gioco antico probabilmente africano origini africane ma la cosa che mi colpisce del motivo per cui poi lui lo presenta è ma un po' ambiguo perché adesso per esempio anche nelle regole che sono state ritrovate il giocatore può o deve muovere la pedina perché se può il grigio se fosse anche il suo turno non la muoverà mai la sua pedina l'unica che può muovere perché sa che va a perdere ok l'altro potrebbe anche lui decidere non muovere questa fase di immobilismo continuiamo avanti all'infinito non si va da nessuna parte però diciamo l'altro potrebbe muovere scegliendo poi di vedere come abbocca l'altro che però di fatto come vedete è messo in una brutta situazione perché se si muove quello succede qualcosa non voglio indagare nel dettaglio questo gioco voglio sottolineare come possano sorgere domande quindi c'è quando un giocatore è bloccato non ha mossa e cosa succede è possibile per un giocatore rimanere bloccato anche se entrambi i giocatori vogliono giocare in modo razionale cioè nel modo migliore cioè quindi non vogliono perdere nessuna occasione buona per vincere poi bisogna decidere se è obbligato come ho detto può passare il turno quindi ci sono tanti ragionamenti cioè a un certo punto il gioco potrebbe andare avanti all'infinito oppure esiste una strategia vincente un piano che appunto rende che ne so se già il primo che mette giù i pezzi è quello che vince il secondo no? cioè come sappiamo in alcuni dei giochi noti no? e cosa succederebbe pensate no? nell'esplorazione cosa succederebbe se anziché avere quattro pedine a testa ne avessimo solo tre no? come cambierebbe la questione perché a quel punto con tre pedine a testa sarebbero liberi tre spazi no? tre posizioni si può creare una e poi se le linee non fossero in questo modo simmetrico ma fossero asimmetriche fossero in modo diverso fossero anche delle linee curve come potrebbe essere? vedete questo se vi ponete delle domande queste sono ancora le parole di su siete degli esploratori matematici state esplorando no? allora dice le esplorazioni nascono così ma l'unica abilità necessaria per un esploratore è quella di farsi domande perché come cosa succederebbe se notate cosa dice qui tutti i bambini fanno questo eppure qualcuno eppure qualcuno qua lo devo mettere in grassetto perdonatemi lungo la strada smette di porre domande forse perché chiediamo loro di memorizzare le cose e di non comprenderle togliamo memorizzare forse perché chiediamo loro troppe risposte e chiediamo loro poche domande no? chiedere una domanda pensate quanto sia difficile far sorgere una domanda a maggior ragione io ho messo all'inizio non l'ho detto io attualmente insegno anche in un istituto tecnico romano quindi insegno alle scuole superiori quanto è difficile con dei ragazzi che sono come nel caso mio magari all'ultimo anno tirare fuori delle domande se non sono stati abituati a comprendere come quello lì è un aspetto fondamentale anzi dirittura ho cito questa frase di Nguyen della docente americana che viene menzionata nel libro di Su verificate l'efficacia delle vostre lezioni ma mica dalle risposte che gli studenti danno ma dalle domande che si pongono dalle domande che si pongono pensate che che capovolgimento no? ecco un gioco è qualcosa che suscita la domanda ma è chiaro che dipende anche dal giocatore e da chi propone l'attività ludica non possiamo togliere questa fatica soprattutto da un punto di vista della didattica che permette a questo punto esplorazione versus memorizzazione non è negare l'importanza di un aspetto mnemonico di un aspetto della in ambito matematico ma è riconoscere l'importanza di quella che è la fase esplorativa la fase esplorativa quella adesso magari pensiamo le abilità le competenze la fase esplorativa è quella che in qualche modo segna i nostri studenti fino al termine degli studi e in qualunque professione in qualunque attività andranno poi a svolgere questo è un esempio magari lo riprenderete domani in laboratorio con il professor Chesi diciamo è un esempio famosissimo si può fare in tanti modi adesso per il tempo accorcio perché siamo andati lunghi anche il problema tecnico abbiamo due mazzi di carte uno con 18 carte rosse uno con 18 carte nere il 18 è insignificante potete mettere il numero che volete ma l'importante è che il numero di carte dei due mazzi sia lo stesso se prendiamo 5 carte rosse le mettiamo nel mazzo nero e poi dal mazzo mescolato ne riprendiamo 5 e le rimettiamo nel mazzo da cui avevamo presa il mazzo rosso la domanda al termine di questa operazione ci sono più carte rosse nel mazzo nero più carte nere nel mazzo rosso è una domanda quasi marzulliana più carte rosse nel mazzo nero più carte nere nel mazzo rosso in matematica n carte rosse n carte nere x carte rosse x carte cioè la stessa usiamo sempre lo stesso numero ci si può ragionare facilmente ma non dirò io la risposta a cui si arriva tra l'altro con il mazzo in mano in una prima risposta uno studente ce l'ha immaginate in prima media io lo facevo spesso quando insegnavo le medie glielo davi lì e loro si vedevano tra le mani e cavolo succede questo che e non lo dico ma qualcuno già l'avrà forse intuito succede questo come mai succede questo allora la fase poi diventa importante ma dobbiamo saper spiegare questa cosa non basta che accada sempre dobbiamo saper dire qual era il motivo tra l'altro molto affascinante perché immediatamente diciamo forse ho provato la doppia diciamo formalizzazione quindi con le lettere e con i numeri forse con i numeri è meno evidente che con le lettere almeno per chi è matematico per chi lavora su queste cose o chi fa un po' gioca diciamo così con i numeri c'è una sorta di magia almeno all'inizio che uno pensa vabbè no ma che è successo come accade tutta questa cosa le virtù del gioco allora è come se diciamo nella prima parte io avessi cercato di dirvi perché secondo me è necessario giocare per tutte le cose che ci siano detti per tutte le cose che veicola ma in realtà è necessario giocare perché se nel gioco si coltivano queste virtù allora ben venga giocare nella didattica della matematica le virtù del gioco non del gioco in assoluto ho messo ancora prensi su sono le virtù che vengono menzionate nel capitolo dedicato al gioco nel libro di matematica per il fiorire dell'essere umano sono queste speranza curiosità concentrazione fiducia nella fatica pazienza perseveranza capacità di cambiare punti di vista apertura di spirito lì vedete c'è una barca a vela che è l'immagine un po' che guida anche un po' tutto il lavoro sulle virtù che dice sostanzialmente così pensate alla fare matematica come il navigare in barca a vela nel navigare in barca a vela è veramente la cosa più importante andare da un punto a un punto b tutti possiamo riconoscere che per andare da un punto a un punto b se c'è di mare di mezzo certo un mezzo marino ci serve ma non per forza la barca a vela potevo andarci in motoscavo potevo andarci con un arco potevo andarci in tanti altri modi allora quali sono le questioni per cui io mi metto in barca a vela diciamo per andare in barca a vela devo anche tra l'altro avere delle competenze tecniche che sono per esempio devo essere in grado di fare i nodi gestire le vele tutto quanto ecco noi andiamo in barca a vela per padroneggiare queste conoscenze queste abilità come il saper fare nodi o queste sono solo accessorie per quello che poi è il divertimento dell'andare sulla sulla barca a vela ecco questo secondo me è fondamentale perché se uno poi non vive questa esperienza l'esperienza appunto di andare adesso potete immaginare che so gli sciatori in questo periodo a cui piace sciare immaginare l'esperienza che si vive sugli sci o l'esperienza del nuotare tutto quanto cioè ecco quell'esperienza lì chiaramente richiede delle conoscenze richiede del lavoro della fatica però è un'esperienza che noi facciamo non con uno scopo come dire sempre solo pragmatico cioè come l'idea da qui devo arrivare qua l'obiettivo tac tac questo aspetto qui e questo è un po' l'aspetto che che mi piace sempre riprendere della matematica qua trovate delle parole delle virtù fondamentali io dico sempre sarebbe bello pensare all'insegnamento della matematica come un insegnamento per virtù immaginate di dover verificare nei vostri studenti se innanzitutto noi stessi se abbiamo se li abbiamo mai sfidati a lavorare sulla fiducia nella fatica sulla pazienza non chiedendogli di essere pazienti ma allenandoli ad essere pazienti la matematica ha la capacità di allenare alla pazienza non possiamo pretendere dai nostri studenti la pazienza se innanzitutto non siamo noi in qualche modo portatori di questo attraverso la disciplina che ha nel suo l'aspetto fondamentale di pazienza ci sono tanti teoremi che non sono stati dimostrati per anni e c'è stata un'attesa paziente di chi si è messo lì al lavoro per capire quali potevano essere le strategie da utilizzare e poi la fiducia nella fatica io faccio un esempio qualcuno non l'ha già sentito dire immaginatevi i vostri due studenti di fronte a un problema di fronte a un gioco rispondono in due modi completamente diversi Luca in un minuto ha risolto il quesito ha risolto l'attività ha 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 finito il gioco Giovanni è lì che è da 30 minuti che non riesce ma non stacca la penna dal foglio le mani dai dadi dalle carte sta lì che suda che lotta che fatica ecco questa fatica noi spesso la la spegniamo andiamo a Giovanni gli diamo una pacca sulla spalla gli diamo una carezza e gli diciamo va bene dai ok vale questo impegno ho detto 30 minuti ultimamente quando vado in giro per le scuole o parlare nelle formazioni con gli insegnanti mi dicono ma magari fossero 5 minuti no sì ok ma qui il tema è che quella cosa lì non si deve spegnere ma si deve alimentare e deve essere ad esempio Luca quello che l'ha risolto in un minuto a sperimentarla anche lui a sperimentarla magari con un gioco con un problema con un quesito più difficile per lui che gli crei anche la difficoltà di dover stare più tempo su un'attività e magari scoprirà la pazienza pazienza che magari lui non ha la fiducia e la fatica che lui non ha che dopo un po' lui stacca dopo un po' Luca è lo stesso che se anziché un minuto ce ne mette 5 va di matto ecco da questo punto di vista secondo me comprendere come la matematica queste virtù siano qualcosa che si può sperimentare e di cui si può far tesoro nella vita io credo che sia molto importante nel gioco essendoci uno scopo un punto d'arrivo questo aspetto è pregnante il ciclo del gioco matematico a cui ho accennato prima si riduce in due tappe adesso vado rapidamente investigazione spiegazione ma queste due tappe non sono mai solo due sono due nel senso investigo cerco lì di ragionare trovare delle 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 possibili delle possibili strategie poi a un certo punto spiegazione spiego in modo deduttivo induttivo eccetera ma poi si ricomincia sempre nuove domande che suggeriscono nuove cose a dimostrare o sottigliezze del modello che ho trovato che vanno esplorate allora fa un esempio che magari riprenderete sempre un francesco domani la scorciatoia per calcolare il quadrato dei numeri che terminano con 5 credo che in molti tra di noi non solo matematici la la conoscano credo però in molti non si siano eh non cioè si siano fermati lì fatemi dire così almeno questa almeno era la mia esperienza non svelo qual è la la scorciatoia qua vi ho fatto quattro esempi uno è fila all'altro che vi danno una caratteristica che effettivamente è assolutamente evidente tutti questi quadrati finiscono con 25 come si costruisce la parte precedente quindi che ne so la cifra 2 del 225 la cifra 6 del 625 il 12 o il 20 di prima è dato da da scoprire ai nostri studenti si si fanno varie riflessioni trovano la soluzione e poi devono cercare in qualche modo di di nuovo fase spiegazione ma perché funziona la cosa che mi ha colpito che su nel libro ehm dice questo va bene ma sì ok ma pensate cosa può succedere nel domandarsi ad esempio quando moltiplicate due numeri diversi che terminano con 25 lasciamo perdere il 5 cioè no adesso che se termino tutti i due con 25 due numeri diversi quindi non per forza il quadrato due numeri che terminano con 25 che succede già questa è una domanda qui mi dispiace ma nella slide la risposta la do perché in realtà poi dopo ci dovete pensare perché non do la spiegazione e lui dice il risultato termina sempre con 25 cavolo ma questa è una roba dell'altro mondo cioè ho 25 e 25 e questo finisce sempre con 25 e allora questo dà la possibilità di creare una nuova cosa che lui chiama le finali testarde cioè chiamiamo finali le ultime cifre di un numero e le finali testarde sono quelle che se il prodotto di due numeri con le stesse finali dà come risultato con le stesse finali allora quelle sono finali testarde allora per i numeri che terminano con 25 il prodotto dà un numero che terminano con 25 e succede solo per altri quattro coppie di cifre 0 0 0 1 e 76 76 è una bella sfida ragazzi cioè non è non è banale per niente ma allora se sono le ultime due cifre che succede se consideriamo le ultime tre cifre e mi fermo qui e le ultime quattro cioè potreste andare avanti su nel suo libro va avanti fino a 15 cifre trova un numero con finali testarde di 15 cifre e poi però dice che a un certo punto arriva quell'illuminazione per cui non serviva neanche arrivare fino alle 15 cifre per capire cosa c'era dietro cosa si poteva dimostrare che effettivamente funziona sempre qualcuno magari appunto in ambito accademico avrà capito i riferimenti in ambito algebrico a qualche teorema che non non menziono e e vado avanti il mio gioco quello di cui vi parlo oggi l'ho chiamato il mio perché diciamo è come mi sono appassionato io io mi sono appassionato al mondo della matematica e il gioco a partire dai rompicapo dai puzzle come dicevo prima da alcuni appunto li conoscevo li conoscevo tutti il problema delle parti tutti quelli anche in ambito probabilistico ricordo il professor Barra che quando feci appunto probabilità di dati di probabilità ci mostrò lungimirante tante di queste cose che ribadisco si fanno pochissimo ahimè nella scuola italiana non solo nella scuola primaria ma anche nella scuola secondaria di primo e secondo grado questo problema era un problema che era il problema dei quattro quattri se volete nella traduzione italiana for forse era un problema è un problema storico di cui non vado a ripercorrere l'evoluzione nella storia ma che è arrivato a noi in tanti modi l'idea di a partire da quattro numeri uguali ottenerne un altro con le quattro operazioni e poi si è evoluta puoi metterci anche le radici quadrate puoi metterci anche le potenze puoi metterci anche le parentesi puoi anche usare la giusta posizione quindi vedete che non sono numeri ma diventano anche cifre quando abbiamo il quarantaquattro e allora il giochino è ma mi fai i numeri da zero a venti mi fai tutti i numeri e tutto quanto pensate che questo non non lo cito però insomma c'è proprio una una regola generale che trovo Paul Dirac si dice lo cita Alex Bellos in un libro utilizzando il logaritmo in base quattro tra l'altro è una è una di quelle cose che è anche wikipediana cioè se cercate il problema del quattroquattro troverete la la formula generale per creare in modo un po' particolare perché usando il logaritmo qualunque numero vogliate qualunque numero n voi desideriate costruire però voglio farvi vedere un po' qual è il percorso che un po' è quel ciclo matematico che vi dicevo prima un po' l'aspetto di esplorazione un po' quello che vorrei mi basterebbe comunicarvi che è un po' il modus operandi che dovrebbe avere l'insegnante nel fare matematica con i nostri con i propri studenti cioè esplorare continuamente quindi far sorgere le domande come dicevamo prima e lavorare nel come dire vedere quali sono le domande soggiacenti al problema che è stato posto dal docente quindi per esempio 4-4 per ottenere 17 è un altro tipo di sfida ma è il tipo di sfida dove abbiamo 4 cifre uguali se cambio le cifre posso incominciare a mettere le cifre diverse posso dire 3-6 o un 2 per ottenere 44 allora ho 6 per 6 più 6 più 2 ho 4 cifre diverse l'evoluzione qual è? che io parto da un problema voglio vedere sempre la sua complicazione c'è un grado di complessità più avanzato e questo didatticamente è molto utile e quindi lo potete fare al contrario partendo dal problema difficile come diceva prima Polio e De Guzman semplificando questa volta abbiamo 0-1-2-3-5 per ottenere 4 ho più di 4 cifre da utilizzare in questo caso le utilizzo come numeri quindi non solo come continuo a utilizzare sempre come numeri non solo come cifre quindi sono numeri a una cifra poi comincio a essere 6-5 per ottenere questa volta metto la giusta posizione vedete che ho messo il 55 nella soluzione poi aggiungo il fatto che le operazioni che devi utilizzare sono esattamente due quindi nel caso di questa domanda non c'è scritto per lo spazio era per ottenere 6 usando solamente due operazioni e quindi necessariamente dovevi fare due giustapposizioni ok potevi essere anche una giusta posizione con le centinaia però poi bisogna ottenere comunque 6 come risultato oppure aumento metto il tipo di operazioni e le cifre questa volta ti dico quali sono le cifre quali sono le operazioni e tu lo devi costruire quindi devi ottenere il numero 1 sempre qui si lavora sull'ordine delle operazioni non sto a dirlo perché insomma facebook purtroppo ci riempie di questi problemi fasulli di matematica dove non viene rispettato la proprietà l'ordine delle operazioni quindi magari 3 più 72 qualcuno farebbe 3 più 72 75 diviso 4 ovviamente quello non viene più nulla ma va fatta prima la divisione e l'ultimo uguaglianza con qualsiasi con numero bersaglio questa volta non ti non ti domando altro che fondamentalmente ti do il numero bersaglio e puoi costruire quello che vuoi molto simile a quella precedente ma il numero bersaglio che è quello su cui si lavora tanto diciamo è l'uguaglianza preferita perché fondamentalmente io qua devo andare a costruire cioè ti fisso il numero 10 e tu devi andare a costruire tutto il resto con le operazioni che tu hai usando anche la giusta posizione quindi questa uguaglianza qui io poi ho cercato di replicarla in linguaggio Python per poter fare anche un programma che potesse in qualche modo sviluppare e implementare quello che abbiamo visto da un punto di vista mentale anche nel nel calcolatore abbiamo dovuto togliere un po' di cose il programma era computazionalmente un po' pesante quindi ci mette un po' di tempo per cui si fanno per mutazioni dei 10 simboli quindi compreso cioè in questo caso dei 10 simboli sì dei 10 simboli che abbiamo a disposizione quindi le operazioni le cifre e poi c'è il numero bersaglio che va verificato se viene ottenuto c'è il problema dello 0 che lo 0 non può stare davanti non può stare a sinistra sapete che in spagnolo se è uno 0 a sinistra è come dire se è una nullità e poi non si può ovviamente fare operazioni impossibili o mettere un'operazione accanto a un'altra o all'inizio il calcolatore fa i suoi conti e ottiene come soluzioni queste due a meno delle permutazioni cioè del scambiare l'ordine dei fattori degli addendi e quant'altro l'obiettivo però a quel punto finale è stato quello perché all'inizio forse qualcuno avrà visto da 4ForceProblem a Rolling Cues Pitagora Rolling Cues Pitagora è un gioco con dei dadi che è il mio gioco ultimamente e a questo punto la cosa che a me premeva di più era poter replicare proprio un lancio casuale appunto questo in ambito probabilistico sarebbe interessante indagarlo cioè non ti do più il numero bersaglio ma ti do le cifre anche più di 6 nel caso del gioco Rolling Cues Pitagora le cifre sono 8 e le operazioni 4 e poi ti chiedo di costruire un'uguaglianza quindi in questo caso si permuta anche il segno uguale è un problema perché appunto la pronotazione diventa di 11 simboli 11 fattoriale e il segno uguale non può stare all'inizio o vicino ai segni ed è carino perché in questo caso per esempio questo è un esempio sempre di quello che è uscito fuori dal calcolatore ne sono uscite 4 ed è didatticamente interessante oltre a farlo fare ai nostri studenti andare a commentare magari quelle che sono le strategie cioè immaginatevi in una classe i gruppi trovano diverse soluzioni ma magari di queste 4 che ha trovato il calcolatore i gruppi ne trovano solo 2 tipologie è interessante in questo caso usare il calcolatore non come ah vedi lui ha la soluzione ed è più forte di noi ma come andare a vedere come noi avremmo potuto ragionare per ottenere quella soluzione non come ragiona lui ma come avremmo potuto ragionare per cui vedete che c'è una ricorrenza del 7 per 2 che viene utilizzato nelle prime 3 e poi vengono utilizzati gli altri dovendo avere due molti dovendo utilizzare due moltiplicazioni devo fare delle scelte su questo poi appunto io rimando all'attività laboratoriale per ragionare a questi aspetti però sicuramente interessante e intrigante andare a ragionare come dire per esclusione per tentativi ragionati uso l'espressione per tentativi per tentativi credo che concorderanno i professori per tentativi ragionati per prove errori è la prima se non la più importante modalità di approccio alla matematica purtroppo nell'ambito della scuola l'approccio per tentativi sembra che sia un approccio non matematico mi devi fare che ne so nei problemi dove ci sono dove si potrebbero applicare i sistemi lineari bisogna usare il sistema bisogna usare l'equazione no ci sono tanti di questi problemi che si possono risolvere per tentativi però ragionati ragionati vuol dire che non basta la fase dell'invenzione non basta che ho trovato la brillante soluzione ma devo anche in qualche modo accompagnarla da una motivazione di quella scelta questo poi diventa il gioco e il gioco fisico dove l'aspetto interessante è che lo studente di qualunque età in questo caso parliamo magari ai ragazzi e gli studenti della scuola secondaria di primo grado che arrivano in prima media e che incominciano a riprendere in mano tutti i rudimenti dell'aritmetica che hanno visto nel ciclo precedente ha in mano i dadi per costruire le uguaglianze avere in mano i dadi è diverso da dover fare con carta e penna perché vedere che un 26 diventa un 62 basta scambiare due dadi e questo accade sulla carta devo riscriverlo ma la cosa per me più importante che anche da laureato in matematica non avevo mai visto è proprio l'idea di guardare al numero come risultato di un'operazione e quindi cercare di vedere che in questa uguaglianza che abbiamo scritto qui io ho scritto 2 più 2 uguale 4 non ho scritto altro che questo se non in modo più stravagante cioè devo essere in grado io studente di astrarre al punto tale che 66 diviso 2 meno 31 è un modo diverso di dire 2 cioè 33 meno 31 che è un modo diverso di dire 2 3 meno 1 che è un modo diverso di dire 2 e se ci metto davanti due decine uguali pensate 3 meno 1 53 meno 51 vi sfido a farlo a diversi studenti se non parliamo anche di adulti si rimettono a fare il conto alle prime volte cioè giustappore la stessa decina vuol dire che per quanto quello sia andato in un campo un po' più ampio complesso di numeri il risultato ovviamente rimane lo stesso a volte sono proprio gli ultimi numeri gli ultimi cifre che si vanno a mettere quelle della decina è bello perché in questo gioco io mi sono cimentato e sto andando a concludere visto il tempo che abbiamo in disposizione però mi sono cimentato in una cosa significativa cioè io volevo che questo gioco fosse alla portata di tutti e so che il primo limite che ho con il quale devo confrontarmi è che i nostri studenti ma questo anche i nostri docenti tante volte magari chi non è laureato in matematica chi non ha una formazione in matematica hanno una repulsione nei confronti del calcolo dell'aritmetica è una repulsione non so direi originale per certi versi ma comunque che hanno in tanti e questo che cosa comporta comporta che io non ho un vantaggio nel chiedere di fare i calcoli ho un vantaggio nel chiedere di muovere i dadi quindi devo andare a vedere come questi dadi si possano muovere nelle mani di qualcuno che non vorrebbe fare mezzo calcolo allora cosa ho fatto ho cercato di dire ma se ragioniamo solo con le quattro come operazioni solo con le somme e le sottrazioni ci muoviamo nella bilancia nella bilancia che poi usiamo per introdurre concetti anche un po' più alti nell'algebra delle equazioni se ci muoviamo solo lì con somme e sottrazioni è possibile è possibile ottenere una qualcosa un lancio che sia accessibile a tutti cioè mi spiego è possibile che quello che vado a fare possa riuscire ad ottenerlo qualunque studente allora cosa ho fatto ho preso in mano i dadi e ho cominciato a dire ma c'è un segreto in questi dadi chiedo alla collega di chiudere il microfono Maria Rosaria c'è un qualcosa che ci permetta di costruire un'uguaglianza con tutti e 13 dati allora il qualcosa l'ho trovato nella parità e disparità dei numeri il qualcosa l'ho trovato nella parità e nella disparità dei numeri aspetti che l'ho disattivato io nella disparità la parità dei numeri che è qualcosa che a volte diciamo ma poi non è semplice utilizzare nella pratica didattica cioè innanzitutto avendo in mano questi elementi gli elementi sono quelli che avete visto prima cioè le 13 i 13 dadi sostanzialmente hanno una caratteristica sono 4 cifre dispari 4 cifre pari che sono verdi e sono blu e poi ci sono le 4 operazioni ma allora quando mi muovo solo con somma e sottrazione posso andare a individuare subito se un'uguaglianza è sensata oppure no in questo caso vedete già nella slide senza ho tolto direttamente l'animazione in questo caso avete un'uguaglianza che è certamente falsa non devo fare i conti per scoprirlo basta che vedo la parità e la disparità delle cifre all'unità quindi se vedete da una parte ci sarà per forza un numero dispari dall'altra un numero pari non ho dubbi su questo non c'è da discuterne non devo rifare dei calcoli per scoprirlo benissimo allora che succede succede che la la disparità e la disparità va risistemata come si risistema in questo modo ho almeno sistemato la parità e la disparità rendendo le unità come dovevano esserci vedete ho scambiato semplicemente il 43 con il 34 non ho fatto conti ho lavorato solo su parità e disparità allora il segreto che ho dato come strumento di lavoro naturalmente che ho fatto scoprire agli studenti nel caso fareste scoprire ai vostri studenti è quello di vedere come innanzitutto lavorando con più e meno tu devi avere da una parte una cosa che deve essere pari e pari o dispari e dispari e allora le unità devono essere in questo modo e tradotto vado ancora al nocciolo la cifra delle decine che vedete in questo caso devono essere esattamente due numeri di due cifre due numeri di due cifre l'ho scritto prima ma due numeri di due cifre perché perché siccome aggiungo e tolgo e basta con queste cifre che ho a disposizione non potrò mai andare sulle tre cifre perché se già scrivo 100 lasciate perdere qua l'uno non ce l'ho ma potrei averlo nel lancio dei dadi non riesco ad ottenerlo solo con somme di numeri a una cifra perché poi ho solo una cifra quindi la cosa che scoprono è duplice scoprono si può scoprire che i numeri da due cifre devono essere esattamente due ma la cosa che fa bingo è che i numeri di due cifre devono avere la cifra delle decine dello stesso colore non la stessa cifra perché in questo caso siamo fortunati il 3 il 3 però siamo fortunati fino a un certo punto perché l'uguaglianza ancora non è corretta ma la cifra delle decine deve essere dello stesso colore perché? perché così le unità sono in equilibrio in termini di parità e disparità perché le unità poi quante unità mi rimangono? 3 e 3 o 4 e 2 a seconda di come le mettiamo nella nostra bilancia o 5 e 1 insomma comunque sono 6 unità le 6 unità per essere in equilibrio in termini di parità e disparità devono essere in equilibrio quindi dovranno essere o 4 pari e 2 dispari o 4 dispari e 2 pari o 3 e 3 come possiamo che succede adesso? devo metterlo veramente bene allora per metterlo bene la bilancia qui mi dà una differenza di 8 allora la bilancia qui può essere lo strumento che lo studente utilizza creando un'uguaglianza sbagliata e poi cercando di metterla in equilibrio quindi vedete 30 uguale 38 la differenza fa 8 come la metto in equilibrio ho una differenza di 8 quindi dovrò aggiungere 4 da una parte e 4 dall'altra come posso farlo? A aggiungo 4 a sinistra tolgo 4 a destra scambiando l'8 con il 4 vedete ho scambiato la cifra 8 che era in fondo nel secondo termine con la cifra 4 che era nel primo termine ma potevo farlo anche in modo diverso potevo scambiare il 7 con il 3 sto sempre sopra e anziché fare più 3 meno 7 facevo più 7 meno 3 devo dire che la seconda anche qui la seconda delle due soluzioni è più brillante meno immediata per tanti di noi ma è quella che poi didatticamente risulta più importante per una continua esplorazione cioè lo studente che ha scoperto che più 3 meno 7 e più 7 meno 3 si portano come differenza 8 cioè se prima toglievo 4 adesso aggiungo 4 quindi la differenza è quell'8 che avevo bisogno di riequilibrare lavora già con gli interi negativi positivi più 4 meno 4 sto scambiando se cambio quella roba lì cambio di segno più 4 meno 4 o porto di là cambio di segno che sappiamo che non esiste bene l'esplorazione potrebbe continuare ma io poi mi fermo lavorando con loro cioè lavorando con loro quindi vedendo stimolando in loro la possibilità ma se io so queste due informazioni ci possiamo arrivare tutti alla soluzione con queste due informazioni quella è una possibile soluzione adesso l'ho messa in quale slide guardate quando poi sperimentate questo che quelli lì che all'inizio dicevano no prof io non ci riesco no prof io ho dieci dati nove undici no vabbè una recentemente mi ha rimesso i dati nel sacchetto no mi ha rimesso i dati nella scatola no ragazzi io vado sull'ambito geometrico poi nel momento in cui ti dai questa strategia e ti metti con lui o con lei a vedere va bene ma facciamola costruiscila a caso non pensare immediatamente al calcolo ma pensa a quello che sta facendo l'obiettivo è due numeri di due cifre e se questi numeri sono di due cifre la cifra delle decine è dello stesso colore quando sta in questo equilibrio fa i conti e a quel punto cerca di mettere a posto tutto quindi cerca di riequilibrare e se ne possono fare di ogni ho fatto anche la simulazione con scratch ma che magari poi riprenderà domani Francesco però insomma l'idea è che se ne possono fare di ogni e la cosa carina è che va va difesa questa cosa fino al punto di dire non è che i dati li ho scelti io possiamo provarlo a fare con tutti i dati quindi li lanciamo anche insieme con i nostri studenti e proviamo a vedere se anche noi siamo in grado con loro di farlo e in questo potete anche un po' barare perché non ne ho qualche volta qualche docente un po' meno coraggioso dice vabbè me lo preparo prima lo stesso sì e fate finta che lancio quello lì però insomma quella è l'idea vado a concludere quindi le caratteristiche fondamentali che io suggerirei rispetto a dei giochi strutturati rispetto a un alla matematica recreativa rompicapo è che il gioco strutturato che sia questo dei dati o che sia qualunque altro gioco che potete vedere in mente è un'attività ripetibile spendibile in attività didattica più e più volte cioè come fosse un generatore infinito illimitato di rompicapo mentre il rompicapo nel senso diciamo così il problema delle tre porte il problema delle parti sono dei problemi che una volta risolti sono determinati è un rompicapo che ho risolto e che chiaramente fa parte poi del mio bagaglio ma è finito lì no? cioè il problema dei guardiani la domanda eccetera qui nel gioco strutturato c'è una componente che rispetto all'ambito matematico è una sorgente di continue attività esplorative continue possibili scoperte ne avevo citate tre qui vi lascio con una mia diciamo nel mio lavoro di tesi dottorato ho cercato di individuare 17 proverbi veri e non che in diciamo indirizzassero il docente erano chiaramente accompagnati da una discussione indirizzassero un po' il docente nel lavoro della di una didattica della matematica attraverso il gioco alcuni sono in grassetto alcuni no ma non è perché siano più importanti di altri ma diciamo chi ha trovato un fungo cerca tutto intorno per scoprirne degli altri è un po' la linea guida sulla quale ci siamo mossi adesso perché non so perché nel slide è scomparso il post perché un po' è questa cioè l'attività di esplorazione l'attività di suscitare le domande e poi chiaramente l'attività di non aver paura dell'errore perché questo dello sbagliando si impara è qualcosa che in matematica è fondamentale portare avanti e nel gioco chiaramente tante volte che tutte le volte che perdiamo o prendiamo la strategia sbagliata sicuramente lo scopriamo quindi io direi che visto il tempo di anno io mi fermo ringraziamo grazie 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 grazie